il lavoro allora la battaglia inizio jacks ormai distribuisce ok mi piace qua va bene perfetto e facciamo il team delle carte qua allora eccola tu ogni tanto di qualcosa inerente al gioco così facciamo vedere che abbiamo pure la tipa in clan ok dici cose random tassa d'armid ok mi stavo regolando un attimo la tastiera mouse tassa d'armid che ha usato pure il lato qui c'è il titano un po' più a scena eh anche Tyra l'abbiamo ma Tommy è già fullato allora siamo sessuali ah oh yes no non aiutiamo le parolacce no ah è vero ce ne scusate ti fullo tutto fullo tutto fill me up ma Tyrell si è preso più vite è babbile questa cosa la mia skill si è presa controllateli per liberare il trago cavallieri cioè ti ha parato? si ha parato la skill che stavo tirando a coso la skill che stavo tirando è te grande eh dai raga però serious shine fra 10 grazie per l'aiuto vieni mettiamoci alla shine così muro è inidia e a mattare le fa un male boia ho detto che mi arriva Tyrell ha detto che mi arriva Tyrell va vai su tryn up io non la posso prendere Mita perchè mi shotte ti ve lo dico green Stroop vado a prendere un attimo la fontanina qua è andato pure in un momento peggiore eh non fa niente dai mi shotta Zagar è andato io non ho male quindi becchiamo la stiamo perdendo bottom la stiamo perdendo bottom la stiamo perdendo bottom stiamo perdendo bottom eh l'abbiamo perso pure top eh l'abbiamo perso pure top eh la recuperiamo subito prima è che ci serve mana e arrivo attenti mid eh mid l'abbiamo presa l'abbiamo ripresa l'abbiamo ripresa l'abbiamo ripresa senza mana ma la buona vero male perchè eh ma io non posso incarlo ricollo al volo arrivo uomo prendi la fonte Kain veloce eh 28 secondi perchè qua senza mana non riusciamo a prenderla la situazione serve un Venomo raga ho un po' di abiti di power e basta eh Kain ma non ce la faccio a non prenderla no in top in top adesso riprendono top vado un attimo a rifullarmi allora ohhhhh allora hai visto? vai che becco no va bene soppiare ex e lì la dietro well raga non la dovete perdere dopo perchè bottom ma siamo nel via e mi shotta porca puttana ci sono ci sono lo blo blo blocco non lo blocco no cazzo cazzo la roccia cazzo cazzo ti sta sciettando la roccia no paolo si questa è questa hai balla su aspetta che zagara veramente rompe le palle eh però è lentissimo è lentissimo da prendere la città di quello si c'è poca vita è tipo una escape l'uovo si è preso il mio hit la tira è il qua non posso curare cura 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 tra quanto no è la mezza di salire è l'onore perchè a me mi shotta ragazzi sulla scattura la stiamo perdendo arrivo swap no no è proprio tommasso per esempio resta mezza resta mezza nazi sei la puntata ok non andarci ci muori non morirci non morirci non morirci che serve io lo sto bloccando la camera non so per quanto non ti preoccupare arrivo io no ci arrivi tu ok fast live sta prendendo no io lo faccio prendere comunque se ti muovete qualcuno a dare no ma cosa ci vuole uno che ci vuole no ma viene un secondo asciutto mi sto d'assa tardi nascosto molto presto aspetta eh non te non me lo pushare così però io vado a botta defender arrivo da cain eh bottom tu nova sali su fatti pullare fatti pullare fatti ma questo come cazzo ha fatto a vedermi fai biostrat non ce la fai vero che ci vuole no va bene però abbiamo perso la cosa giù arrivo io top prenderla fai cain e tu stun cazzo tassa targo no welter non ingagiamo posso dappiare solo la cosa qui la naga comunque dovete killarlo il biostrato raga 300% di eh ma come si killa che non si vede il biotumore eh devi usare le skill d'aria al centro del biotumore eh valla a vedere comunque sei bravissimo si può qua si può minchia ilidan si è salvato per un uso di pull proprio eh ok c'è ne è un po' stupido arrivo mid arrivo mid arrivo mid a morire jackser sto arrivando eh vabbè tanto non lo puo prendere guarda che è bassissimo non ce la fai eh devo regalare eh devo regalare di resto io mi do vai quando faccio così arrivo raga io sopra sto senza mana senza vita senza niente raga dobbiamo fare un teamfight con loro da qualche parte e scioltarne almeno due eh venite sopra che questi qua stanno pushando come dei dannati arrivo io va arriviamo io e nova e scioltiamo più gente possibile ok raga non perdete giù ma zaga zaga primo target zaga assoluto oh scusa scarlett ma lo scioltiamo sto ilidan ok dai c'è n c'è n c'è n ci troviamo stupius vabbè vai vai non ce la facciamo prendetela e se prendete la naga prendo il dragon vado a prendere la naga prendo la naga dai mi chiama ilian quanti cazzo i danni fa eh no c'è l'ultima arrivo 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 no non c'è la faccia la naga arrivo arrivo ah ma sei troppo basso è bassissimo niente però te lo posso shottar no non te lo posso shottar ma è il lato fatto una cappella scusa eh guarda che ti sgama ricorda eh si mi sono dimenticato questo particolare però c'è l'ultima e tante quali ultimi ti devo prendere eh com'è top perchè qua lo prendo e nera che non è che so top l'hanno presa ce ne sono due tutta di sopra tutta di sopra l'ha preso quasi non l'ha preso bisogna di recuperarlo vai vai jacksorb se gli fai danno recuperate giù l'ho bloccato l'ho bloccato prendi prendi devo scappare eh muoi lol oh bellissimo per forza non ci stai neanche provando a me mi servono i globetti che ho montato le leggende di mano se c'è n se c'è n se c'è n se venite inizio facciamo il fight non ce la faccia diventa invisibile dio santissimo slide bellissima quella uccidiamo sto tasso da qua venite qua arrivo inco da voi raga io qua tra poco faccio l'ulti eh trova sto c'è n io c'ho l'ulti a distanza non posso essere nel fight però te la tiro vado dopo a prendere o sto qui a fattare occhio all'arconte vai faccio l'ulti bellissima c'è n è in ulti però l'ha spiegato che stiamo fugo a prendere vado io 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 no fabio rimani là che sei dps io sto senza niente fai danni tu là vado io vado io ah no vado io vado io bot insieme a vado 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 io non c'ho niente di mana e sono io vado nooo l'ha fatto la ultima e scappa prendi il drago lo prendo io il dragon check prendete il drago preso io c'ho l'ultima e scombino gas willitan ragazzi a te naga oh cambia lane se vedi che ti pushano troppo capito non stare lì a farti menare in ulti nonno over committiamo ragazzi a favore siamo un po' bassi da fatemi guardare ok via 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 passa 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 pazienza ok va bene così dai poi facciamoci il nostro hard si facciamoci hard uno con me ha l'easy vieni qua scarl raga uno deve scendere assolutamente giù altrimenti perdiamo le turle il veloce possibile me lo puoi lasciare no lì si me lo puoi lasciare vale vai vai scendi giù scendi giù scendi che campi va bene un sacco di danni loro vero aspetta che mi kill lo tassa dai mid 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 tira l'arrivo 8 secondi all'ultima ma dai roma 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 cazzo io non so più umano la realtà qua come sono messi loro eh tira l'era molto facciamo il facile loro no eh raga no sopra 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 ci stanno massacrando buonasera 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 a fare il facile sotto con me e io sono useless vabbè vado sotto in generale lo stesso occhio che siamo completamente separati siamo due giù sotto quindi non li ingaggiate eh due giù e due sopra l'altare tra pochissimo vai mercilai lord occhio occhio jackser occhio attenzione raga non morite giù non morite giù è importante lasciategli l'altare tanto lo prendiamo sopra vabbè tu mettiti nel posto ah te stai andando e allora però io non lo posso prendere da solo il cuore ovviamente scatenate il suo potere fate di matare il sovrano venite tutti sopra ragazzi allora uno missing boss il marina becca game grazie no ragazzi cazzo pittraga no no niente mid ragazzi dovete venire dovete venire su eh come facciamo prendo bot prendo bot prendo bot bellissima sta cura game raga voi beccate siete perchè ho preso bot arrivo e li prendo da dietro con l'ultimo vediamo se ci riesco ah dai ho dato l'ultimo da parte io prendo la forza guarda prendete mid dai ma non c'è neanche la forza qua è stato piuttosto divertente mid e up mid e up raga uno che puscia con me post vai puscialo 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 per ingaggiare prendo io raga l'ho bloccato vai 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 git il tele usa e lo scior bearings Stele pris cristio lo produce è meglio che lo prendo io perchè alla fine quando scopo sono invisibile vedo quindi do nettamente alla fuga chiii chi tre l'epoca ma che cosa è un'attività facciamoci cenno no ma c'è un'attività per obbligare mai brutto vattene perdendo vita in una maniera scena vera per più che altro per evitare le vi lancio anche il leader è sfregato per ieri eh no vabbè comunque c'ho 30 secondi comunque è sfregato vabbè potresti andare in botta a fare un po' di disaster no 30 secondi no 30 secondi dentro i baneling via 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 cacchio in lo sotto cacchio in lo sotto cacchio perché siete ritirati ragazzi eh non lo so non capito ritirati no no è morto vale questo mamma mia siamo top eh no mi ha fatto l'ulti T-Rail davvero io vorrò l'ulti però qua mid lo perdiamo il fatto il vostro nemico ha distrutto un forte eh ragazzo cacchio in lo sotto sono tutti i dammi Dexter ma morirà dai ci avete l'ulti eh io ho 12 secondi io vedo io rivolgo a 3 2 e 1 io ce l'ho quando vuole ma quella di nuke è importante ce l'hai o no? eh 10 secondi appena sponocelo appena sponocelo 3 c'è 12 secondi eh ma qui comincia a farlo tanto è globale l'importante è che c'è l'ulti di Nazzippo esatto c'è l'ulti di Nazzippo oh mio mio l'ulti di Nazzippo non scherzo ragazzi ragazzi dobbiamo pushare subito dai push push abbiamo scelto noi dei paritanti no il campo c'è la loro volta che ha fatto i campi l'altra volta facendo i campi Jack 0 si fa i campi noi usciamo c'è fatto il campo loro se li puoi fare da soli li ho sempre fatti con una tipo da solo dai ma devo regalare subito dopo lo devi farci il loro almeno no 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 vado a farlo no no non possiamo qua ragazzi facciamoci lìci l'oro qua vabbè allora vado a farmi il nostro io vai aspetta qua vai finici di uccidere tu raga le shrine vado top a prendere la shrine vado top a prendere la shrine vado top a prendere la shrine ma ancora devono spawnare shrine ho capito ma ci conveniamo la prendiamo subito il dragon hai capito quale è il punto uno giù vado io vado io vado io vai date tutti mid date tutti mid top sto prendendo top presa preso 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 vado vado io vado io perfetto dai sono tutti la raga fatemi sapersi sono tutti la raga sono l'ulti pure tu c'era il stun mi devi dare una pura fat per com'è fatemi una ulti da qualche parte che stunna che fa qualcosa fin te l'ha fatta Tyrell? eh ma io so sta scioltando Tyrell bloccato Tyrell bloccato Tyrell sono lo shinkrato ragazzi io non c'ho morto 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 ragazzi c'è il tasso mare che mi ha cessato per tutta la mappa vi spunta dietro allora preparatevi che c'ho l'ultio eh no 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 non usarla ora no no lascia perdere perché non c'è mio hook e non c'ho neanche la mia però ce l'ho io e guarda è la mia famiglia ragazzi sono in tre loro uno giù qua da me che si viene a fare ok è uno qua perché io e arrivo io come mi prendo il mano tu inca cioè me li faccio e me lo faccio da solo è che poi devo regalare cosa del ma praticamente per forza raga tra 20 secondi spawn è un ultimo eh poi siete pronti viaggiamo vabbè comunque a te ovviamente c'è capitata assa già il tuo lavoro è molto più difficile dei dubbi il dottor a improbabile sono morto quattro volte ma pastidiosissimo e stanno tutti mi provo hanno 8 1 1 8 adesso le prenderà da dietro e questi si avva per te recorde arrivo ciò purtroppo dove sei da che c'è pure una cosa che farò con le studi attenzione 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 per istruttare i carichi erano via 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 c'è l'ultima fase di attaccio perciò adesso per stati vincere posto adesso è tanto se ti sei raggi adesso appena l'arrivo vabbè ormai troppo tardi no sono separati pure tu lei giugiu 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 ed è giù ecco lì ne sono due, tre, quattro vai vai guarda, noi seguiamo te vai, eccoli qua no, cazzo, se ne sono andati bloccato Chen bella bella almeno uno ce lo siamo fatti siamo Chilidan e il Tyrell qua raga, uno che resta la naga, uno che resta la naga uno che resta la naga, uno che resta la naga ah, ma vado sopra a prendere il coso d'accordo non vi splittate troppo, raga, vi girano insieme io credo che tu l'ha secondo me di verrà aiuta mid eh, ci sta questo cazzo di tasso da guarda, c'è lo spirito vai, vai, vai ragazzi tutti mid venite tutti mid che sta in tre qua prendi la cosa, sto punto troppo a prendere oh mio nooo thank you very much bitch sun ce n'è, sun ce n'è, io muoio qua 7 secondi io ce n'ho, io ce n'ho, io ce n'ho ok io e che li stai ingaggiando da davanti no, è too late no, io stavo andando fuori vabbè, non fa niente ok, non ha cura oh, bella quella cazzo hanno fatto il culo è tra i cazzo Illidan è morto Illidan è morto scappa, scappa Weltan, scappa come la merda ma soltanto il giro si è morto comunque ve lo potrete fuori basta dare scappato, non so prima quella e Weltan, l'hai fatta la descrizione che sono le 44 si, si, sento qua io voglio... è confermato perchè ci stava Chen a bassa vita e non abbiamo focussato gli A, cioè è quello che mi chiede cosa? ci stava Chen tibromarfo qua che stava a basso di qui i Tapp vuol dire che abbiamo focussato ma scusate ma il segnapo non lo avevo già registrato il team ma devi fare il letto e signapo scusa ma il segnale team oh, se già non ti capisco 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 non ti capisco ma non ti capisco non ti capisco eh ma ti capisco se proprio il gruppo sono tre atto allora io ci ho avramo non morite che c'è l'ultimo io non ti capisco aspettiamo 10 secondi 7, 6, 5, 4 non credo che sia saggio ce lo farà 9 quindi il tempo che hai già inki sto qua ragazzi sto morto minchia questa è stata proprio una curia di quelle la pushhard mid raga forza dai finiamola anzi piamo le shrine oh ma c'è un illidan qua che cazzo ci fa stu illidan di merda no le shrine raga le shrine minchia è col deck free raga uno sopra io resto mid dai veloci proprio free il coso che vuole si si vieni con me io sto mid giusto perchè sicuramente è lo stronzo che c'è che tira il ma ce la facciamo prendere shine dai veloci arrivo il bot no qua ci fottono raga vai il bot cioè arrivo il bot è morto dire muore pure illidan oh grande vai alcor vabbè è morto questo vabbè squadra nemica vai vai andate al core ragazzi hanno spawnato in 3 adesso no nuke dovevi aspettare eh dovevo aspettare chi vuoi buttare nel mezzo mi sciotta ero da solo sono spawnato nel momento in cui sono arrivato illidan dai mi sciottano eh ho sbagliato grazie grazie nuke di ma dove sono tutti ah ma noi abbiamo 3 morti c'è due erano due ma cerca di farli sparcare il tempo come noi siamo ovviamente questo è frenesco ci muoverebbe questa volta sbatteli in base no però scappa pure scappa pure scappa pure io c'ho l'ulti pure domani dite ma ma sto facci ma di e come per me è è stato ci ha bloccato sto cazzo di 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 drago è nel senso di palle perchè lo devi prendere per forza perché aiuto i 10 secondi arrivo prendete qua andiamo tutti i bot i due secondi arrivo ha tirato la di tassa da armi edono sono morto no raga non così però non è che non è che non così se girano la di tassa da armi vedono e ma tu non devi andare tu devi stare con un guelto allora che tu che devi tankare non devi andare a fan fuoco per vedere cosa stanno facendo quanto tempo spuni? non ce la facciamo raga ce la facciamo a tutti se hai ingaggiato ce la fate ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho e vado 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 ovvio che ce la facciamo oddio ovvio vai tu sta tuttana di merda qua fammi sciotta l'idro vai tu zhagar vai tu zhagar si può fare si può fare si può fare seguiamo zhagar pezzi di minion di merda vaffanculo puoi sunnare eh non così lontano seguitelo seguitelo datemi visuale datemi visuale no merda salvatemi salvami 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 vai su tira il tuo muore vai su tira il tuo muore stateci addosso oh sti minion del cazzo eh eh forca puttana cazzo ah pensavo andasse all'altro lato beh dai ragazzi altare 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 dai dai io vado top 1.2 2.2 che stanno mitono di mito e io però devo solo regalare tanto sono tutti da un per amore che ingatza all'arco se ci facciamo l'arco con il terreno no eh eh no ma io sono tutti re sono in 3 up ragazzi mi beccano la del caso 3 jackson vai Oh ammazzalo però Non me lo fa prendere Dai prima dell'esplosione Pezzi di merda Comunque c'ho loot Aspetta che lo prendo però Preso No scuso sbagliarlo Salva tutti con 2 HP No ci muore Tassadar No non c'è morto Tassadar Ok ci è morto lo stesso Chen ragazzi No Illidian Chen Ma che falle quella cazzo di ultimo Che c'è È quasi muore questa gara Corre 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 15 secondi E' voglia Fini E' finita Bisogna versare una sola volta In questo momento Ho preso quel Dragon Che ho sbagliato di nuovo Calciare Tassadar Grazie a tutti.